Siamo pronti signori? Aspettate il mio via e poi ne lasciamo tutti i palloncini. Con i migliori auguri che possiamo rivolgere ad Aurora per i suoi 18 anni qui questa sera, in questo 30 marzo 2019, dalla riempata animazione con gruppo Anarama. 3, 2, 1, via! 3, 2, 1, via!